Focus. Il 26 settembre in apertura di seduta l'assessore al lavoro Claudia Porchietto e il presidente della giunta Roberto Cota hanno svolto una comunicazione in merito alla realtà produttiva del Piemonte e alla crisi occupazionale con particolare riguardo alla Fiat e alle aziende minori facendo il punto sulla situazione alla luce dei recenti incontri con l'amministratore delegato Sergio Marchionne. La conclusione del dibattito è la votazione di alcuni ordini del giorno sull'argomento presentati rispettivamente dai gruppi Federazione della Sinistra, Partito Democratico e Italia dei Valori sono previste per la prossima seduta. Dal dibattito del Consiglio regionale di oggi è emerso chiaramente come l'indotto Fiat sia fortemente in crisi, è una vera e propria situazione emergenziale come ha detto l'assessore Porchietto ma la soluzione l'ha data anche il presidente Cota cioè misure non dirette a un finanziamento della Fiat che dal 1975 ad oggi ha preso 220 miliardi cifre che potrebbero farla riscattare addirittura dallo Stato ma interventi volti a aiutare tutto il comparto e chiedere al governo un vero e proprio piano industriale. Il tema della tutela dell'occupazione nell'indotto Fiat è estrettamente intrecciato alle scelte produttive di Mirafiori. Da questo punto di vista se la regione può adottare misure di sostegno per le piccole imprese altrettanto deve aprire un quadro di relazioni industriali con Fiat. La proposta che abbiamo avanzato è che i nuovi settori della mobilità sostenibile sia in termini di ricerca e di innovazione che di produzione possano essere un nuovo asse di investimento.